Con Alberto Bassi, campione italiano nel TCS con una Leon ST. Adesso la Leon ST diventerà protagonista di un trofeo monomarca, di una CAP, tra l'altro Alberto la prima, credo in assoluto, con una vettura station wagon. Sì, secondo me è un'ulteriore idea geniale di SEAT, quella di attivare un campionato con vetture station wagon. L'anno scorso l'abbiamo sviluppata durante tutto l'anno, abbiamo dimostrato che poteva essere una vettura molto interessante, competitiva e divertente da guidare. Ci siamo tolti la soddisfazione di vincere il titolo e è la degna sostituta del trofeo Ibiza. È una macchina comunque che ha 300 cavalli, quindi i piloti potranno divertirsi, avranno con che divertirsi quest'anno. È una macchina molto performante, io personalmente mi sono divertito molto l'anno scorso durante tutta la stagione e penso che il trofeo sia la cosa migliore che può fare il SEAT quest'anno. Come si guida una station wagon? Si guida come qualsiasi altra macchina da corsa perché quando sei dentro non ti accorgi che è una station wagon, anche se è un po' più lunga della versione berlina, non lo senti quando sei in pista. È molto performante, è molto schiacciata a terra. Credo che abbiamo trovato durante tutto l'arco e la stagione il setup giusto che sarà quello che poi seguiranno i piloti quest'anno nel trofeo. Poi non dimentichiamoci che è un campionato italiano anche quest'anno, quindi chi vince avrà la possibilità di vincerà anche un campionato italiano che è sempre una bella soddisfazione. Grazie a tutti.